Siamo con Massimo Stravato allenatore del Lidl Pirata Calcio a 5. Massimo quest'anno per te inizia una nuova avventura dopo tanti anni di apprendistato potremmo dire così come con la carica di vice mister nella Visfondi quindi per te inizia di fatto un nuovo percorso. Quali sono le tue sensazioni e le tue prime impressioni? Buonasera a tutti. La mia prima impressione è stata diciamo sin dai primi approcci con questa nuova società una carica di entusiasmo e gran voglia di fare cosa che sinceramente mi ha subito coinvolto veramente in maniera positiva quindi diciamo per me tutta una nuova esperienza che la prendo veramente con con forte carica quindi per me sono abbastanza contento di di aver accettato questo incarico abbastanza contento veramente sicuramente conosci benissimo la rosa tra gli addetti lavori spesso ti abbiamo visto assistere alle partite del Lidl Pirata Calcio a 5 nella passata stagione quindi non ti faccio domande troppo tecniche per non dare naturalmente dei vantaggi agli avversari però una cosa me la devi concedere c'è un giocatore che ti intriga particolarmente che ti piace particolarmente sul quale vuoi lavorare in particolare poi è normale l'allenatore lavora su tutti però qualcuno che proprio quando hai accettato questo incarico hai detto ecco finalmente posso allenarlo io ma diciamo che ad oggi non posso dare nessun giocatore in particolare che mi possa diciamo stuzzicare con questa situazione perché comunque ancora non abbiamo cominciato sulla carta ce ne sono diversi che mi potrebbero stuzzicare però è meglio non fare nomi perché ancora non abbiamo cominciato quindi non mi sembra il giusto neanche per screditare il resto della rosa è ovvio che poi magari ognuno può dire che io possa avere dei pupilli questo non lo so può darsi pure ma io non diciamo non assicurerò il posto a nessuno questo è certo se lo devono guadagnare tutti certo fa effetto che naturalmente con te ci sia anche massimiliano triolo no compagno seppur in un'altra veste per te di tante battaglie nella tua precedente esperienza quindi ecco un giocatore al quale tu sappiamo tieni tantissimo una convivenza che sarà credo facilissima a questo punto sì massimiliano sicuramente oltre a essere giocatore mi darà anche una mano nella parte tecnica quindi accetto bombe lintieri il suo aiuto perché comunque è una persona che ha moltissima esperienza quindi ha calcato quindi anche lui categorie abbastanza importanti quindi per me non è stato nessun problema aver accettato il suo aiuto in questa in questo caso e ovviamente come giocatore lo conosco bene diciamo abbiamo vissuto tre stagioni bellissime diciamo nella vis insomma e quindi adesso diciamo andiamo a andiamo avanti diciamo nel verso questa nuova questa nuova avventura adesso vorrei farti una domanda didattica diciamo così tu che sei un allenatore con patentino uefa b regolarmente riconosciuto dunque puoi allenare anche fino alla serie b nazionale ricordiamolo qual è la difficoltà nelle categorie cosiddette minori del futsal portare ciò che si impara nei corsi e credo che tu puoi rispondere in maniera molto precisa a questa domanda ma nei corsi ci insegnano diciamo teorie quindi o meglio dire tattiche tecniche per le alte prestazioni poi noi giustamente esatto che vanno calibrate però poi giustamente vanno calibrate a seconda della categoria che vai a affrontare è ovvio che magari in una c2 non puoi pretendere le prestazioni che puoi pretendere una squadra di serie b questo penso che è una cosa che ce l'hanno anche insegnato i nostri docenti ai corsi e noi dobbiamo fare la stessa cosa perché poi è ovvio che se andare in una serie c2 e pretendere quello che si pretende un campionato di serie b dove magari ci si allena di più quindi ci si con doppie sedute doppie sedute ovviamente lì la situazione cambia ma cambia in generale ovviamente quindi anche con il calibro dei giocatori che qui dovresti avere durante la durante l'anno insomma è una situazione poi va calibrata a seconda della categoria si affronta sappiamo che nei prossimi giorni la dirigenza ufficializzerà anche i nomi sia dei confermati che dei nuovi acquisti però da quello che si sa è un roster molto molto competitivo quindi non puoi sottrarti ad un'ultima domanda direi di rito quali sono gli obiettivi di una squadra come Lido e Piata che seppur matricola della categoria si presenterà ai nastri di partenza con un roster come diciamo prima di tutto rispetto e di livello i giocatori che diciamo mi ha messo a disposizione la società sicuramente sono per fare un campionato importante dove arriveremo questo non lo sappiamo lo vedremo giornata per giornata fino a quando poi a un certo punto uno comincia a tirare le somme non so fino di giorno di andata comincia di ok siamo in condizione di arrivare diciamo in playoff oppure in qualsiasi posizione poi magari alla fin fine il campo dirà anche il contrario perché noi non dimentichiamo che sicuramente incontreremo squadre magari anche più organizzate di noi che già ci stanno in categoria in questa categoria diverso tempo noi siamo sempre una promossa poi partiamo da un presupposto che questa è una squadra quasi completamente nuova quindi diciamo di giocatori del del vecchio gruppo che ha vinto la coppa l'anno scorso ne sono rimasti moltissimi quindi comunque va la prima cosa importante va plasmato il gruppo questa è la prima cosa che va fatta va benissimo massimo allora ti ringrazio e anche a te in bocca al lupo gravi